Oh, in Brianza, a Mugio, han fatto sui rei party. Cos'è? Come? Hanno fatto il rei party, ma la cosa bella sapete qual è? Che i genitori brianzoli si sono preoccupati, si sono accorti, che mancavano tutti i loro figli, hanno chiamato i carabinieri, operazione congiunta, carabinieri, genitori brianzoli, tramite GPS li hanno localizzati, sono andati là, hanno bloccato tutto, denunce e via. Te lo do io, il rei party, bagai, lo so che a 18 anni volete spaccare il mondo, ma spaccate la terra con la pala, andate su a fare la festa al cornizzolo in mezzo alle stelle, con i cinghiali, o no? Eh? Rei party, cos'è? E quindi, e quindi, bagai, lasciate perdere il rei party. E i genitori brianzoli? Non gliela fai perché sono peggio della CIA, son come una spia. Meravigliosa operazione congiunta, carabinieri, genitori. Te lo do io, il rei party, cos'è?